Il mio nome è nobile come mio nonno, lui era un giornalista e frequentava l'ambiente diplomatico, era anche un membro dei servizi segreti, sul serio. Non ci ho provato ma non ci si è postato. Non ci si è postato ma ti avevo certe sabbiate degli occhi proprio da di là. Ancora oggi Capocotta è una terra bellissima e selvaggia. Daniele da anni la racconta per immagini. Sono il fotografo di Capocotta ma non è un caso. Io cercavo qualcosa che mi rappresentasse, che fosse più mia e quindi iniziai a fare questa serie di ritratti su Capocotta perché ero amico di tutti. In spiaggia, questa è la mia spiaggia, una spiaggia molto libera dove da piccolissimo ci sono venuto e sono rimasto terribilmente spaventato dalla varietà umana perché era un periodo che andavo a scuola e non ci sono mai più tornato. Poi in età più avanzata, 18 anni fa, ci sono ritornato perché mi sono trasferito qui vicino e ho iniziato quindi a usarlo come terreno sperimentale. I personaggi di Capocotta, chiamo personaggi perché sono come un po' quelli di Star Wars, i personaggi di un avamposto, di un bar interstellare che vengono da tutte quante le tipologie umane. È proprio questa sovrapposizione di anime, di strati sociali, di persone che stanno uno a fianco all'altro, non curanti uno dell'altro ma amalgamandosi in una democrazia perfetta. È un luogo al limite tra il mare e la terra, tra Roma e il resto del mondo. Roma ha un rapporto, secondo me, conflittuale col suo mare, come un po' tutte le cose di Roma. È piena di monumenti che vengono però trascurati. Non so se fa parte del carattere del romano avere cose e poi non curarle, però il mare di Roma potrebbe avere una valenza molto più alta di quello che ha.